Certamente è importante curare, ma non meno importante prevenire, anzi più efficace. Questo screening lo facciamo proprio per scoprire chi è infetto da epatite C, è un virus che causa l'infezione del fegato, con anche conseguenze molto pesanti, importanti per il paziente. Perciò scoprendo tempestivamente l'infezione si può curare con dei nuovi farmaci e chi poi prende e assume queste farmaci tempestivamente guarisce ed è guarito per sempre. Perciò vale la pena, tutti i nati negli anni tra il 69 e l'89 sono invitati a partecipare allo screening che è gratuito e ha l'effetto di eliminare qualsiasi rischio per il paziente.